Bene, i bambini sono nelle loro casette magiche e stanno dormendo in questo momento e si trasformano, a breve, perché ogni cosa si trasforma e quindi chiedo alle api di uscire dalle arnie le api rientrano nelle arnie e si addormentano adesso ci svegliamo e chiedo alle mucche di uscire dalla stalla chiedo alle mucche di rientrare nella loro stalla e di addormentarsi ci svegliamo e chiedo alle pecore di uscire dall'ovile chiedo alle pecore di rientrare nell'ovile adesso chiedo alle pecorelle che sono sulla mattonella gialla a una delle due pecore che è su una mattonella gialla di andare a trovare l'altra pecorella le due pecorelle si sono incrociate però non si sono incontrate una pecorella rimane nella propria casa e l'altra pecorella la va a trovare mettendo almeno un piede sulla casetta perché è ospite adesso chiedo alla pecorella blu di andare a trovare un'altra pecorella blu alla pecorella rosa di andare a trovare una pecorella rosa all'arancione di andare a trovare una pecorella arancione chiedo adesso alle pecorelle che sono sulla mattonella arancione di andare a trovare le pecorelle che sono sulla mattonella rosa e una volta che sono arrivate di fare loro una carezza via una carezza una carezza e un piede sulla mattonella chiedo alle pecorelle gialle di andare a trovare le pecorelle rosa e una volta arrivate di fare loro una carezza rosa chiedo adesso alle pecorelle rosa che sono diventate un gruppo di andare dalle pecorelle blu e di fargli una pernacchia e di entrare nella loro casetta come ospiti si intende via e la pernacchia la pernacchia fatta bravi adesso tutte le pecorelle si addormentano felici bene adesso apriamo gli occhi e le galline escano dal pollaio le galline entrino nel pollaio adesso chiedo a una gallina arancione di andare a trovare una gallina rosa tutte e due se volete e una volta arrivate lì di dargli un bacio sulla guancia tutti ci addormentiamo ci svegliamo e le scimmie escano dalla foresta le scimmie rientrano nella foresta cala il sole e si addormentano ci svegliamo e gli uccellini escano dal nido gli uccellini rientrano nel nido chiudano gli occhi e si addormentino adesso adesso escano i pesci dal mare rientrano i pesci nel mare adesso chiedo a ciascun pesce rosa di andare a trovare un pesce giallo e una volta arrivato lì di dirgli una parola dolce nell'orecchio chiedo di fare la stessa cosa ai pesciolini arancioni con i pesciolini blu di andare a trovare un pesciolino blu e di dire a questo pesciolino una bella parola nell'orecchio adesso ci addormentiamo apriamo gli occhi escano i topolini dalla tana a ciascun pesce ma lo sogniamo attenzione bambini sfermando il scherciatore schermando dentro riescono i centriatti nella foresta Attenzione i bambini, sta arrivando il scacciatore, sta arrivando il scacciatore, sta arrivando il scacciatore e sta arrivando il scacciatore, sta arrivando il scacciatore, sta arrivando il scacciatore e sta arrivando il scacciatore, sta arrivando il scacciatore, sta arrivando il scacciatore e sta arrivando il scacciatore, sta arrivando il scacciatore, sta arrivando il scacciatore, sta arrivando il scacciatore Eccano le armi e le armi e! Arrivati la roba! Arrivati la roba! Arrivati la roba! Eccano le sciglie da conesto! Eccano le sciglie da conesto! Eccano le sciglie da conesto! Arrivati la roba! Eccano! Eccano! Eccano le sciglie da conesto! Eccolo Sì, buco! Arrivederci a voi! Grazie!